Freddo, lucido, preciso, a spiazzare Occioa. Dei così! Pellegrini! Dei così! Personalità! 1-0 per la Roma. Di Bala contro Occioa. Di Bala! Porta in vantaggio la Roma dopo 6 minuti. Gol numero 6 in campionato per Paolo Di Bala. Braddari ce lo attende, Di Bala lo punta. Tacco, arriva Karsdorp. Karsdorp dentro. Kroos Pellegrini! Sotto porta! Ha raddoppiato la Roma. Lorenzo Pellegrini, 2-0. Salernitana. Polo Di Bala dagli 11 metri. Parte l'argentino, spiazzato Occioa. Roma in vantaggio al sesto minuto. Con Occioa che si è buttato sulla sua sinistra. Pallone dall'altra parte. Segna Di Bala. Roma in vantaggio al sesto della ripresa. Salernitana a 0. Roma rivista e corretta della Champions League. Intanto però la Roma il tacco di Di Bala per l'inserimento da parte di Klinsenze che mette in mezzo la rete. Pellegrini raddoppia per la Roma. Tutto molto bello con Pellegrini che va a sancire la seconda rete giallorossa. nata dal tacco di Di Bala, inserimento a destra di Karstorp. Pallone perfetto sul secondo palo dove Pellegrini sfugge al controllo di Cioanin, anche di Gionber. E tutto solo a un passo da Occioa. Mette dentro il gol del 2-0. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Bala. Freddo, lucido, preciso, a spiazzare Occioa. 4 su 4 dal dischetto in questa stagione. In serie a team per il numero 21 giallorosso di Bala. 1 contro 1 con Bradaric. Tacco per Karstorp. Entra in area. Karstorp in mezzo. Facile, facile. L'appoggio del capitano. Lorenzo Pellegrini raddoppia la Roma al minuto 66. Parte Paolo Di Bala. Personalità. 1-0 per la Roma, minuto numero 50. Classe. Perfetto. Bala da una parte e portiere dall'altra. La sinistra a destra da Roma. Di Bala punta. Tacco. Arriva Karstorp. E Ciarawi dentro l'area di rigore. Pellegrini in posizione regolare. Trova il gol del 2-0. Prima Di Bala. Poi Pellegrini che va a esultare sotto i suoi tifosi. 2-0 per la Roma. Paolo. Va Di Bala! Di Bala! Roma in vantaggio. Salernitano a 0. Roma 1. Di Bala si accentra. Attacco per Karstorp. Linea di fondo. Il cross in mezzo. Pellegrini! Pellegrini! Il gol dal capitano. Un'azione magnifica della Roma. Sinistra per il Ciarawi. Cross sul secondo palo. Cristante. Prova. E c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. Sul colpo di testa di Cristante. Il tocco con la mano. Eddie Bradaric. Duello tutto sudamericano. Di Bala contro Choa. Siamo pronti. Di Bala con il mancino. Va Di Bala! Paolo! Di Bala! Salernitano a 0. Roba 1. La sblocca ancora lui. Paolo Di Bala. Con il mancino. Il tacco per Karlsdop. Fino in fondo nella rigore. Il cross è dentro per Pellegrini! Lorenzo! Pellegrini! 0-2 alla Rechi. C'è anche la firma del capitano nella notte della Rechi. Fischia di Bello. Parte Di Bala! Go! Paolo Di Bala! Il vantaggio della Roma. 51 sul cronometro. Salernitano a 0. Roma 1. Sesto gol in stagione per Paolo Di Bala. Sì. Il gol è perfetto. Il rigore è perfetto. L'ha spiazzato. La scena che di solito vediamo a parte in partite. Portiere che si è brutta prima. Quando siamo noi a dover cercare di neutralizzarne uno. Adesso speriamo che la Roma si scuota. Giochi con ulteriore incisività e coraggio. 1-1 Brada. Ricci Di Bala. Rientra sul sinistro. Di Bala arriva anche Karlsdop. Karlsdop sul fondo. Karlsdop. Pidari. Il cross. Secondo palo. Pellegrini! Clarenzo Pellegrini! Finalmente una grande azione! Raddoppia la Roma! Grande azione della Roma! Grandissima! Grandissima azione della Roma! Il gol! Di Lorenzo Pellegrini al 66esimo Salernitana 0. Roma 2. 20 secondi di grande calcio. Sinistro! Dai! Paolo Di Bala 0-1 Il punto di ripartenza dopo una prestazione fin qui in colore. Paolo Di Bala Paolo Di Bala dal dischetto 0-1 per la Roma Di Bala 1 contro 1 Paolo Di Bala il tacco per Karlsdorp Karlsdorp è dentro Pellegrini! Dai così! Pellegrini! Dai così! Lorenzo per il 2-0 della Roma Dai! Porta bene la regga di Salerno Lorenzo Pellegrini 2-0 raddoppio giallo-rosso al 66esimo qui grande giocata di Paolo Di Bala La soglia Prosegue a muoversi Ochoa parte Di Bala contro Ochoa col sinistro lo spiazza e la Roma passa in vantaggio con il sesto gol in campionato di Paolo Di Bala freddissimo nonostante i movimenti del portiere va col sinistro ad aprire il piattone ed è 1-0 al 51esimo Decide di non guardare Ochoa fino al momento del fischio e poi con precisione con freddezza lo spiazza Roma in vantaggio è il primo tiro in porta della Roma tutto campo per la Roma Bove allarga per Di Bala da destra Di Bala con il tacco premia la sovrapposizione in area di Karlsdor per la cross in mezzo Pellegrini 2-0 al 65esimo minuto bellissima la giocata con il tacco di Di Bala liberare la sovrapposizione interna di Karlsdor per la cross stavolta si è buono Ochoa non esce sul secondo palo Pellegrini fa 2-0 di Bala di Bala